Nel nucleo di ciascuna cellula del nostro corpo si trovano 46 cromosomi. Ogni cromosoma, a sua volta, è formato da un lungo filamento che contiene una serie di geni. La sostanza chimica che compone i filamenti genetici si chiama DNA. Il DNA è una molecola che assomiglia ad una scala a chiocciola e che i ricercatori chiamano doppia elica. Una volta srotolato, il filamento genetico dei cromosomi ricorda una scala a pioli. Una metà della scala corrisponde ad una stringa del filamento genetico. Questa è composta da quattro elementi, adenina, citosina, guanina e timina, abbreviate rispettivamente nelle lettere A, C, G e T. Le lettere che compongono la seconda stringa sono complementari a quelle della prima stringa, come una serratura chiave. A fa coppia con T, mentre G con C. Quindi, se si conosce l'ordine delle lettere di una stringa del filamento genetico, si può facilmente indovinare quello dell'altra. Dentro il nucleo di ogni cellula del tuo corpo, si trova dunque un libro scritto con le lettere A, C, G e T. La lingua con cui è scritto il codice genetico è la stessa per tutti gli esseri viventi che si tratti dell'uomo, degli animali, delle piante o dei batteri.